salve a tutti benvenuti sul mio canale in questo video vi farò vedere come realizzare questa collana ad uncinetto come vedete molto bella molto particolare e può essere utilizzata per essere indossata ad esempio su di una maglia attinto a tinta unita per abbellirla naturalmente questo progetto può essere usato anche per fare un piccolo pensierino di natale il progetto è molto semplice e molto veloce adatto anche ad un principiante ma iniziamo subito a vedere come fare per realizzarla per fare la collana punto puff io ho utilizzato questo tipo di filato si tratta di un filato che è composto dal 72 per cento di acrilico 17 per cento di lana 8 per cento alpaca 3 per cento di poliestere la casa produttrice consiglia un uncinetto numero 5 per questo tipo di progetto io vado ad usare un uncinetto un po più grande il 6 e mezzo quindi vado a prendere il filo e creo per prima cosa il nodino iniziale quindi filo corto sul dito in questo modo creo la x sulle dita e poi con l'uncinetto porto questo filo da quest'altra parte e poi vado a tirare questo che si forma sarà il nodino iniziale della lavorazione adesso vado a fare due catenelle una e due ora iniziamo la creazione proprio del punto puff per per crearlo vado ad allungare quest'asola questa che si trova all'interno dell'uncinetto con l'ausilio dell'uncinetto stesso tiro e allungo in questo modo l'asola e vado a formare il punto puff sempre all'interno di questa catenella filo sull'uncinetto entro catturo il filo salgo su e ho tre asole sull'uncinetto di nuovo filo sull'uncinetto rientro catturo il filo salgo su cinque asole sull'uncinetto per l'ultima volta prendo il filo rientro se andiamo a contare queste asoline sull'uncinetto avremo due quattro sei e una sette a questo punto possiamo chiudere il punto puff passando attraverso tutte le asoline in questo modo e poi per chiudere faccio una catenella e questo è il primo punto puff della lavorazione per creare la collana adesso faccio un'altra catenella e poi proseguo sempre nella lavorazione dei punti puff per prima cosa quindi vado a tirare con l'uncinetto per creare l'asola in questo modo questa asola allungata e poi faccio il punto puff in questo modo entro una volta catturo il filo filo sull'uncinetto rientro per la seconda volta filo sull'uncinetto rientro per la terza volta abbiamo sette asole sull'uncinetto e adesso possiamo chiudere in questo modo il punto e poi facciamo una catenella per chiudere vedete che si formano questi simpatici punti puff che man mano che andiamo avanti creeranno proprio la lunghezza della nostra collana per proseguire quindi facciamo sempre una catenella in questo modo e poi allunghiamo con l'uncinetto l'asola filo sull'uncinetto entriamo una volta catturiamo il filo entro una seconda volta e poi una terza volta proprio per formare il punto puff filo sull'uncinetto porto da quest'altra parte faccio una catenella per fermare facciamo sempre un'altra catenella e qui possiamo proseguire allungando l'asola per fare un altro punto puff sempre nello stesso modo entro una volta due volte tre volte filo sull'uncinetto porto da quest'altra parte faccio una catenella per fermare vediamo di nuovo dopo aver fatto la catenella per fermare facciamo una catenella e iniziamo di nuovo a lavorare il punto puff allunghiamo l'asola in questo modo e facciamo il nostro punto puff sempre in questa catenella quindi entriamo una volta due volte tre volte filo sull'uncinetto porto da quest'altra parte e chiudo facendo una catenella faccio quindi di nuovo una catenella aggiuntiva e proseguo sempre nello stesso modo vediamo ancora come fare tiriamo l'asola allunghiamo questa filo sull'uncinetto e facciamo il nostro punto puff entro una volta due e tre chiudo faccio una catenella e proseguo per proseguire vi ricordo che dobbiamo fare sempre una catenella aggiuntiva e allunghiamo l'asola e proseguiamo nel fare i punti puff proseguiamo fino a quella che è la lunghezza desiderata per realizzare la nostra collana come vedete ho proseguito nella lavorazione e ho creato questa collana molto lunga di punti puff questa qui color lampone ho realizzato una lunghezza di 5 metri e 60 e poi ho realizzato sempre lo stesso tipo di filato ma in questo colore blu notte ho realizzato quest'altra parte della collana per fare proprio un colore a contrasto e questa blu è lunga due metri e 70 quindi questa blu e due metri e 70 mentre invece quella lampone è più lunga 5 metri e 60 a questo punto dobbiamo chiudere le estremità questa blu di questa blu già ho chiuso le due estremità vi faccio vedere come chiudere le estremità di questa collana questa color lampone lasciate un po di filo da un lato e andiamo ad unire le due estremità semplicemente con un ago da lana vado a dare qualche punto per unire la collana in questo modo e poi nascondiamo naturalmente il filo dopo aver ottenuto le due collane quindi dopo averle chiuse dobbiamo andare naturalmente a rimpicciolirle quindi andremo a fare tanti cerchi ad arrotolare appunto una sull'altra queste collane fino a raggiungere quella che è la dimensione che ci serve proprio per creare questa collana possiamo farla più lunga oppure più corta risulterà anche uno scaldacollo perché comunque l'abbiamo fatta io l'ho fatta molto lunga e quindi si presenta sia come collana che come scaldacollo per andare ad arrotolarla più semplicemente potete una volta che avete realizzato le due collane mettetele proprio al collo indossate le saranno molto lunghe e poi una volta indossate andate a rimpicciolirle fino a creare la dimensione che più vi piace io poi andrò per fermarle perché vanno comunque fermate da un lato altrimenti si aprono ho creato una fascia io l'ho fatta con il blu vi faccio vedere come l'ho fatta questa fascia andrà cuscita in questo modo allora per fare una fascia vi faccio vedere con quest'altro colore ho fatto una catenella le dimensioni dipendono dalla grandezza della vostra collana quindi realizzate il nodino iniziale e una quantità di catenelle che abbracci la nostra questo lato della nostra collana in questo modo una volta che avete realizzate queste catenelle provate se la misura va bene e poi con l'uncinetto sempre il 6 e mezzo andiamo a creare questa fascia facendo semplicemente in questo modo salto la prima la catenella più vicina all'uncinetto vado in quella subito dopo e faccio tutte maglie basse una per ogni catenella sottostante dopo aver fatto la fila di maglie basse giriamo il lavoro in questo modo facciamo una catenella per salire andiamo a lavorare in costa retro giro il lavoro e dentro qui nella costina retro e vado a lavorare di nuovo a maglie basse una maglia bassa in costa retro per ogni maglia bassa sottostante proseguiamo sempre in costa retro fino alla fine il risultato finale sarà questo andando a lavorare sempre maglia bassa in costa retro andiamo a fare qualche giro di andata e ritorno io ho realizzato 5 giri di andata e ritorno in costa retro e vado a posizionare la fascia qui in questo modo e poi con una godalana vado a dare qualche punto di cucitura nel retro e in questo modo avremo completato la nostra collana scaldacollo quindi andate a cucire nel retro la fascia e questa è la nostra collana terminata come vedete è molto carina anche con questa fascia che abbiamo inserito da un lato questo progetto è utile anche per fare un pensierino magari un regalino di natale anche perché è molto veloce da realizzare naturalmente i colori li deciderete voi spero come sempre che questo video vi sia piaciuto se si lasciatemi un vicino ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video creativi io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima ciao